Ciao, mi chiamo Michele Copelli e ti do il benvenuto su Mindwork. Ho iniziato il mio percorso professionale nel mondo delle risorse umane e nel corso degli anni ho integrato le conoscenze e le competenze acquisite con la pratica clinica, che ad oggi contraddistingue l'attività di cui prevalentemente mi occupo, lavorando su ansia, disturbi dell'umore, crescita e sviluppo individuale. Ho scelto Mindwork perché credo che il supporto psicologico sia una risorsa fondamentale per l'individuo e per la società di cui fa parte. Se senti che per te è giunto il momento di dare uno sguardo nuovo alla tua esperienza, insieme proveremo a dare una risposta alle tue domande, edificando uno spazio di ascolto, di non valutazione e di valorizzazione delle tue risorse, orientato a cogliere vitalità, creatività e possibilità per te nuove. Con Mindwork potrai usufruire di un servizio professionale quando e da dove desideri, attraverso una piattaforma online intuitiva e di facile utilizzo. Vorrei salutarti pensando di poter essere per te quello che Virgilio è stato per Dante, un compagno di viaggio che, giunti al paradiso, congeda con un sorriso il protagonista dell'opera. Ti aspetto su Mindwork.